Il Paradiso, prossime puntate, Gemma potrebbe svelare Marco e il papà di suo figlio. Cosa succederà nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la sua popera continua a riservare colpi di scena e nel corso delle nuove puntate, che porteranno verso l'atteso finale di stagione, potrebbe esserci spazio per la resa dei conti finale tra Gemma e Marco. La Venere sta continuando a mentire sulla sua gravidanza, ma nel corso dei prossimi episodi si ritroverà a dover fare i conti con le pressioni da parte del suo ex fidanzato. L'appuntamento con le prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 vede protagonista Gemma, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua gravidanza. La giovane Venere si ritroverà a dover affrontare le domande pressanti di Marco. Curioso di scoprire qual sia la verità sul bambino che porta in grembo. Perché il giornalista verrà a sapere che la sua ex è in dolce attesa, anche se in un primo momento Gemma gli farà credere che è il bambino sia figlio di Roberto Landi. La persona con la quale sta per convolare a nozze. Una bugia a tutti gli effetti quella della Venere, che tuttavia attirerà ancora di più i sospetti di Marco, curioso di andare fino in fondo. Il colpo di scena potrebbe verificarsi proprio nel corso delle prossime nuove puntate di questa settima stagione. Marco potrebbe mettere alle strette la sua ex fidanzata in tal modo costringerla a confessare come stanno realmente le cose. Gemma potrebbe svelare che il bambino è figlio di Marco, dopo che il ragazzo le aveva confessato della fine della sua storia d'amore con Stefania. Al centro delle prossime puntate di questa settima stagione del Paradiso delle Signore. che si avvia ormai verso le fasi conclusive, ci sarà spazio anche per le vicende di casa ammato. Gli spettatori si ritroveranno ad assistere al rientro in scena di Agnese, la Sarta. Dopo un lungo periodo trascorso a Londra insieme alla figlia Tina, avrà modo di rimettere piede a Milano e la sua presenza non passerà affatto inosservata. Un ritorno molto atteso anche dal pubblico, previsto proprio nel corso delle puntate finali di questa settima stagione. Che dal punto di vista Auditor continua a registrare ottimi ascolti in Daitime. Con punte di share che arrivano a toccare anche il 25%. Grazie a tutti. Grazie a tutti.